Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianni Miau e oggi andremo a vedere un nuovo tutorial Perché oggi vogliamo distruggere qualcosa Ha 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 Ficca E... Beh non volevo però distruggere subito così Ok ripetiamo a posto Bene allora dicevamo ragazzi quindi benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a distruggere qualcosa Ma prima di cominciare vogliamo ricordarvi Voglio ricordare a tutti quanti mi raccomando Iscrivetevi al canale Commentate condividete Fatemi sapere nei commenti Se vi piacciono questi tipo di tutorial Se vi piacciono i tutorial di minecraft Se vi piacciono piuttosto i vlog Gli sketch log insomma fatevi un giro sul canale E vedete un attimino che cosa può essere Che vi può piacere Ok e fatemelo sapere nei commenti In maniera tale che io posso Farvi felice e contenti Tutti quanti siamo contenti Vero Joker? Sei contento? Sì sono molto contento Lasciate l'hashtag con scritto Ciao Gianni Miao Se volete Se volete essere salutati nel prossimo video E se volete essere sponsorizzati Mi raccomando Guardatevi il video delle sponsorizzazioni Per sapere come essere sponsorizzati In maniera corretta E avere anche voi Tantissimi nuovi iscritti Sul vostro canale Che diventerà più grande Di quello di PtPi Se Come no 46 milioni di iscritti Vabbè Ok allora Detto questo Io direi che possiamo Iniziare a fare esplodere qualcosa Ragazzi Perché ho proprio voglia Di fare esplodere qualcosa Io inizierei proprio Vedete L'hashtag Ciao Gianni Miao Ricordatevelo ragazzi Perché questo è molto Molto Importante È una cosa Esplosiva Porca putta Cazzo Beh però è rimasto Questo è quello che succede Se non vi Fate sponsorizzare Ok Mettete anche un like Bam In faccia Bene ragazzi Allora siamo pronti Per la costruzione Allora anzitutto Io userò l'ossidiana Potete usare anche la pietra Potete usare Inestamente Uso l'ossidiana Per andare proprio Sul sicuro Dopodiché Ci servirà L'acqua Quindi la water Water A bucket of water Poi ci serviranno Dei repeater Ci serviranno Torce di redstone Redstone ovviamente E ovviamente La dinamite Perché se no Che cannone Allora Iniziamo subito Come funziona Mettiamo il primo blocco qua Dopodiché dovrete mettere Uno Due Tre Quattro Ok in questo modo E E E E E Quattro Quattro praticamente così E facciamo anche di qua Un'altra fila Però questa la facciamo Tac 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 La facciamo sempre Sempre da quattro Sempre da quattro E qui davanti Gli piazziamo un altro blocco Ok In questa maniera Anzi Lì c'è proprio un villaggio Io direi ragazzi Facciamo una cosa Andiamo a costruirlo Vicino al villaggio E bersagliamo il villaggio Poveri villager Non sapete che cosa Vi sto aspettando Allora Dicevamo quindi Uno Due Tre E Quattro Ok Dopodiché Uno Due Tre E Quattro E qui davanti Ne mettiamo un altro Qui andrà La TNT Che verrà sparata Allora Dopodiché Sì così Ok Dopodiché Così Così Sì Non mi ricordo No Forse era così Ok Sì così Ok In questa maniera Uno Due Tre Quattro Cinque E un blocco così Poi qua davanti In questa maniera E altri cinque Paralleli Qua dietro Mettiamo un blocco In questa maniera Semplicemente E mettiamo Un altro blocco Qua Ah ci servirà anche un bottone Ragazzi Sì Ho anche un bottone Eccolo qua Bello Allora Ok Un bottone E qui così Allora Questa praticamente È la struttura Ok La struttura Del Del cannone Fatta così Fatta Adesso Che cosa facciamo Mettiamo Uno Due Tre E quattro Scusate Quattro Repeater Tutti quanti in questa direzione E gli mettiamo Il ritardo massimo Ok Così In questa maniera Tatatatata Tatatata Poi da qui Facciamo partire La redstone La facciamo arrivare Fino a qua La facciamo arrivare Qua dietro Mettiamo Una torcia Di redstone Ok E qui Gli mettiamo Il pulsante Ora Qua metteremo L'acqua E il cannone È pronto Ragazzi Il cannone È pronto Quando noi schiacciamo Verrà A mandare Ah scusate Qua ci vuole Anche Questo Ok Ci vuole questo E qui Deve essere spento Assolutamente Quando noi schiacciamo Cosa succede Che Ci sarà La redstone Che andrà A seguire Tutto Quanto Il filone Della TNT Che sarà messa Qua in mezzo La TNT Qui davanti Verrà Attivata Tramite Il repeater Intanto Le dinamiti Scenderanno Qui grazie All'acqua Che verranno Attivate Arriveranno Qua davanti E Spareranno Via La TNT Ok Allora Facciamo Un esempio C'è una prova 1 2 3 E 4 Ok Adesso Se tutto va bene Dovremmo vedere Schizzare In aria Come una Come 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 una catapulta Come una catapulta Vediamo Schizzare in aria Tutto La TNT Proviamo Allora La TNT Viene compressa Di davanti Viene attivata L'altra E poi Boom In faccia Allora Adesso Naturalmente Il cannone È Potentissimo Tipo Pugno Gang In azione Però Noi ovviamente Vogliamo beccare Il villaggio Dei villager Se voi mettete Meno TNT Quindi 1 2 3 4 Ne mettiamo Ovviamente La gittata Sarà Minore Ok Quindi Se ne facciamo Così Ne mettiamo Soltanto 3 Vedrete Che sparerà Molto Meno Dove è finito Esplosione Non ha fatto Niente Poveri Villager Lignari Non sapete Salve Salve No Non è che ho in mano La TNT Ecco Non ho niente Anzi Le porto in dono Un bicchiere di acqua Prego Poveri idioti Non sanno cosa Le attende Allora Andiamo avanti Ragazzi Proviamo a metterne Due Vediamo che cosa Succede 1 2 E la terza Qua Anzi Io direi Anche Di indirizzarle Meglio Ragazzi Direi Di indirizzarle Meglio Per farlo Ci servono Le slab Ok In questo Ma perché Ogni volta Che registro Il tutorial Si mette a piovere Io ancora Non l'ho capito Però Vabbè Allora Facciamo così Che mettiamo Le slab In questa maniera In maniera tale Che possiamo Anche indirizzare Indirizzare L'esplosione Ok Così Non volevo Scassare Tutto Vabbè Ok Ok Tac Tac Così Così A me Indirizziamo Spariamo Dritti Per dritti Allora Mettiamo Proviamo a mettere Allora 1 2 3 No Abbiamo detto Due Due Di dinamite Allora Vediamo Questa pioggia Grazie Ok Grazie Allora Vai Via Via Con due Arriva Pura la notte Cala la notte Boom Porca Putta Non è arrivato Allora ragazzi Proviamo con una Mettiamo Una sola TNT Vai 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 Boom In faccia In faccia Ok Proviamo ancora un'altra Vai Vai Vediamo Bene E se noi Gli mettiamo Tipo Qua La TNT Qua E poi Gli la spariamo E poi Spariamo L'altra Ok E l'altra Così Vediamo Arriva pure la notte Dai veloce Prima che arriva la notte Prima che arriva la notte Lagga tutto Raga Distruzione totale Distruzione totale Bene ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Io adesso Mi sono rintanato Qui con i miei amici Villager Perché hanno detto Che là fuori C'è un pazzo Che sta facendo esplodere Tutto l'altro Con la TNT Ah io ho la TNT in mano Porca Eeeh Eeeh Non sappiamo chi sia Ecco vedete Cari amici villager Io non ho niente in mano Bene Vero ragazzi Io spero che questo tutorial Vi sia piaciuto Mi raccomando Fatemi sapere Nei commenti di sotto Cosa ne pensate Se vi piacciono Questi video tutorial I minecraft I vlog Tutto quanto Quello che vi piace Io intanto sto distruggendo La casa Come se non ci fosse Un domani Eeeh Ricordo di lasciare L'hashtag Con scritto Ciao Gianni Miao Se volete essere sponsorizzati Iscrivetevi al camale Al camale Che cazzo Ma il camale Il canale Il canale Ci vediamo alla prossima Bella ragazzi Non mi guardare così In maniera inquietante Dai Che sto registrando Ok Vabbè Come non detto Bella ragazzi Alla prossima E boom baby Ciao Ciao Grazie a tutti